buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di mobilità 2023 2024 su come compilare la domanda dunque saranno quesiti sostanzialmente pratici sulla compilazione della domanda domanda numero 1 è necessario inserire come prima preferenza quella riferita al comune del ricongiungimento per ottenere i sei punti e non rischiare di perderli diciamo che non è necessario esprimere come prima preferenza il comune di congiungimento o le scuole del suddetto comune anche se si mettesse il comune di congiungimento come ultima delle preferenze quindicesima preferenza il punteggio di sei punti sarebbe comunque assegnato in quel comune e nelle scuole di quel comune a prescindere dall'ordine di preferenza espresso una lettrice ci chiede mio figlio ha già compiuto 18 anni il 9 gennaio 2023 non posso più dichiararlo per avere riconosciuti tre punti nella domanda di mobilità 2023 2024 e per le gradatorie interne di istituto per i perdenti posto i 18 anni di età del figlio se compiuti o da compiere nell'intero anno 2000 solare 2023 valgono il riconoscimento di tre punti e dunque possono essere espressi nella mobilità territoriale 2023 2024 non in quella professionale perché le esigenze di famiglia non valgono nelle passaggi ruolo di catena e anche possono essere e diciamo spesi questi tre punti nelle gradatori interne di istituto per l'individuazione dei docenti perdenti posto domanda numero 3 il servizio prestato sul sostegno vale doppio anche se il trasferimento viene chiesto su tipologia di posto normale di posto comune il punteggio del servizio sul sostegno si raddoppia solamente se il trasferimento è chiesto sui posti di sostegno e quindi lo stesso servizio deve essere dichiarato due volte sia nella domanda di mobilità sia nell'allegato di dell'anzianità del servizio se invece il trasferimento è indirizzato solamente per i posti comuni allora il punteggio del servizio non va raddoppiato e chiaramente deve essere indicato una sola volta nella domanda di mobilità e nell'allegato di per l'anzianità del servizio speriamo che queste risposte siano utili ai nostri lettori per la compilazione della domanda 2023 2024 seguiteci ancora sui nostri canali social facebook youtube e sul nostro sito www.tecniche la scuola.it arrivederci a tutti alla prossima puntata grazie 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 grazie